Scaiola e Lanteri prossimi al balottaggio, sembrerebbe? Sì, diciamo, un dato quello della capacità di raccogliere voti del centro-destra che in parte non sorprende. Era difficile leggere nelle ultime settimane quale fossero gli equilibri, se in qualche modo i voti che erano stati diffusi sui sondaggi rappresentassero una tendenza. Diciamo che forse è il risultato che ci si aspettava all'inizio della campagna elettorale, cioè un centro-destra capace di raccogliere un'ampia maggioranza in questa città che se si fosse distribuito in maniera più equilibrata questo risultato avrebbe potuto garantirsi il balottaggio. Questo è il risultato generale per quanto riguarda le valutazioni generali. Per quanto riguarda noi è un risultato più che pessimo oggettivamente perché abbiamo provato a ribaltare quello che era il contesto in cui abbiamo presentato la lista. Io ero stato indicato perché essendo stato il settimo candidato presentato come il settimo candidato, il mio obiettivo era ovviamente quello di ribaltare questo posizionamento. In verità questo non è minimamente riuscito. L'idea che potesse essere diverso il risultato l'avevamo in funzione di alcuni segnali che raccoglievamo nel dibattito che c'era, ma evidentemente c'è uno scollamento tra chi segue magari la politica un po' più da vicino e chi invece rappresenta il grosso del corpo elettorale dove evidentemente non siamo riusciti a fare in nessun modo presa e questo è un dato di cui non si può che prendere atto e che ci lascia molto delusi perché è più che deludente.